è solo là che devi stare attento perché là dove fa la curva c'è un pochino di buco ma non è molle sotto eh ma va ascolta qua c'è giù 5 centimetri di acqua davvero è solo là è solo là è solo là che ma guarda ma vieni qua a guardare qua guarda quanto c'è cioè c'è giù due centimetri di acqua e si l'eredità ormai è la spesa cioè che cacchi di acqua c'è giù è solo là col bottino là non c'è niente ma non c'è proprio niente non c'è niente sì adesso ti refero anche la canottiera allora cioè per alzare l'acqua doveva fare la pipì tutte e due noi ma solo noi così cioè spero andare a firmarlo da vicino no devo andare da vicino a sentire cosa ha detto se se cadi dentro la coscienza ce l'abbiamo la coscienza se cato dentro quello che ha mangiato è digestione ma questo prima di morire deve tutta l'acqua lì è alta ma lì c'è due centimetri non girare dentro di lì è sei pronti? ti corro dietro io a piedi piuttosto non c'è un cacchio là quando arrivi la riguarda velocità cosa c'è seconda o terza? quando c'hai corto o lunga? media secondo me è seconda vai via e fino a che mai stai figa che vado a casa con queste scappe mia moglie e mi butta fuori eh mi c'ha cento ragioni eh eh già pronti via via vediamo cosa succede aspetta